CGL, Cisla e Will presentano a Camerino una sintesi delle proposte per la ripresa dei territori colpiti dal terremoto. Progetto condiviso e recupero dei ritardi sono invece le richieste. Pierpaolo Rivalta. Dall'emergenza alla ricostruzione e poi rilancio e sviluppo a più fasi da tenere insieme all'interno di un progetto unico, coordinato da una cabina di regia e verificato man mano su vari tavoli. E' la proposta dei sindacati per la ripresa economica e sociale delle aree colpite dal sisma. Lavoro, scuola, sanità, welfare, infrastrutture, le priorità da affrontare con il coinvolgimento di tutti, istituzioni e parti sociali e datoriali in testa, ma anche con le università e le regioni confinanti. Una ricostruzione che sarà lunga, ma per fare questo occorre necessariamente un progetto complessivo. Non è possibile procedere in maniera singola, del singolo sindaco, del piccolo comune. Quindi occorre ricostruire un tessuto sociale, economico di sviluppo, partendo dalle esperienze e dalle situazioni esistenti. Per fare questo, noi diciamo, occorre una regia. Potenziare i punti di forza, ma anche intervenire sulle passate criticità per uno sviluppo diverso, la traccia da seguire. Nessuno nasconde che ci vorranno ancora anni, ma proprio per questo il fattore tempo è decisivo e bisogna evitare il pericolo di un mancato ritorno della popolazione. La fase dell'emergenza ancora non è superata, perché ci sono ancora persone che sono lontani dalle loro abitazioni. Si sta stentando la ripresa e soprattutto la ricostruzione è in estremo ritardo. Quella leggera sarebbe dovuta essere terminata a primavera e ancora non sta partendo. Concretezza perché dalle parole bisogna passare ai fatti e questo c'è proprio bisogno. Noi come sindacato sia territoriale che ovviamente oggi regionale abbiamo messo insieme tante proposte. Adesso però queste proposte devono essere recepite e devono essere ovviamente messe in pratica e il tempo diventa fondamentale. Le persone non ce la fanno più a non avere delle risposte.